Dopo gli ultimi fatti di cronaca sulle strade della provincia di Taranto, un altro ennesimo incidente stradale, fortunatamente questa volta senza gravi conseguenze, si è verificato nella mattinata di martedì 9 novembre sulla strada statale che collega Brindisi a Taranto in direzione della città Bimare, all'altezza dello svincolo per la zona industriale nella città delle ceramiche. Tre le auto coinvolte nel sinistro, due le persone ferite in maniera lieve. Non si sarebbero registrati particolari disagi alla circolazione, rallentata di poco, ma comunque è rimasta fruibile una carreggiata. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale di Grottaglie ed il personale dell'ANAS. L'invito, soprattutto con l'arrivo delle piogge che potrebbero rendere più viscido l'asfalto e ancora una volta alla prudenza sulle strade.